Ci abituiamo così facilmente all'ambiente di inequità che ci circonda, che siamo diventati insensibili alle sue manifestazioni e così confondiamo senza accorgercene il bene comune con il benessere, specialmente quando siamo noi che ne godiamo. Nelle oltre quattro ore trascorse alla PAS, Papa Francesco ha incontrato le autorità civili boliviane nella Cattedrale Nuestra Signora, richiamando tutti a lavorare per il bene comune. Il benessere che fa riferimento solamente all'abbondanza materiale tende a essere egoista, a difendere gli interessi di parte e a cedere al richiamo del consumismo che apre la strada alla corruzione. Se la politica è dominata dalla speculazione finanziaria o l'economia si regge solo sul paradigma tecnocratico e utilitaristico della massima produzione, ha precisato il Pontefice, non si potranno neppure comprendere né tantomeno risolvere i grandi problemi che affliggono l'umanità. Così la Bolivia è chiamata oggi a riscattare il suo passato, fatto di sfruttamento, avidità e prospettive settarie e a promuovere il tempo dell'integrazione, creando nuove sintesi culturali.